La vita sentimentale può diventare complicata, soprattutto quando vengono coinvolte le emoji. Come si comporterebbero le tue emoji dell'amore? Oh, salve ragazze! Ah, Zoe, non è bellissima? Mi ha fatto venire le farfalle nello stomaco. La mia emoji dell'amore! Devo andare da lei? E se non mi volesse parlare? Ho un'idea. Non penso di potercela fare. Ha finito di parlare. Mi dispiace. Evviva! Deve essere stato un crampo o qualcosa del genere. Anche a te piace scrivere. Wow, sei ancora... il mio libro. Andiamo a prendere un caffè? C'è Zoe? Accidenti! Ma che tipo ansioso! Dovrei dirle qualcosa? Ma che tipo ansioso! Dovrei tirarle del pane? No! Come faccio a farmi notare che stai aspettando? Questo cos'è? David mi ha mandato un tè freddo? È la mia bevanda preferita! Salve! È ora! Amore! Amore! David mi ringrazierà! Amore! Non posso lasciarlo solo per un secondo? Zoe se ne va? Zoe se ne va! Beh, allora buona serata! Le mie scarpe! Ti prendo io! Wow! Mi hai praticamente salvato la vita! Ti accompagno alla macchina! E io gli ho fatto... te ne vai o no? Mi fai sempre grugnire dalle risate! Quello sì che era un grugnito! Sei tu, amore! Divertente, vero? Anche io grugnisco quando rido! Beh, almeno hanno una cosa in comune! Potrei scorrere tra le foto di Zoe per sempre! Com'è bella! Aspetta! Ma Zoe sta con un tipo? E perché non sono io quel tipo? Ma com'è possibile? Vedi quel tipo? Ma chi si crede di essere? Non è abbastanza per la mia Zoe! Questo appuntamento deve finire! Subito! E so esattamente come fare! Dopo di te! Ecco il piano! Dobbiamo entrare quando meno se lo aspetta! Cerca di scoprire qualsiasi cosa su di lui! Fa vedere! Ci penso io! Oh... Oh... Ecco! Ci siamo quasi, ok, amore? Wow! Zoe viene proprio bene in foto, vero? Guarda che occhi! E perché io sembro un cretino! Oh... La vostra prima foto insieme, David! Che carini! Manca solo un altro passo al fidanzamento! Questa ragazza viene sempre bene in foto! Scommetto che vorresti baciarla, vero? Pensi di avere una chance? Occhio! Non voglio mettere troppi mi piace! Ok! Allora... Lo farò io? Ma sei pazza! Dammi qua! Accidenti, amore! Calmati! Che noia! Dobbiamo fare qualcosa! Tipo questo! Chi è? Beh, andrò a vedere! Ah, finalmente! Vediamo! Una pizza! Ma l'avevo ordinata? Guarda che foto fantastiche! Questa mi piace! Far finta di nulla! Far finta di nulla! Far finta di nulla! Qualcuno ci ha mandato una pizza! Wow! Mangiamola! Spero ci sia tanto formaggio! Ma stai scherzando? Questa è dell'anno scorso! A dopo! Magari non ci farà caso, vero? Ecco qua! Ehi, David! Puoi chiamare Zoe? Devo studiare! Ho un test! Sul serio! È un test difficile! Concentrati, David! Concentrati! L'algebra è più importante delle ragazze? Oggi sì! Guarda che faccino! È davvero stupenda, non trovi? Smettila di distrarmi! Dov'ero? Ah, sì! Sì! Questo dovrebbe funzionare! Com'è che ho caldo all'improvviso? Chissà se Zoe mi pensa! Quanto mi piace! Chi se ne frega dell'algebra! Che cosa ho fatto? È come se l'avessi fatto apposta per lei! Evviva la lezione di informatica! Almeno posso scrivere a Zoe! No, troppo smielato! Ora va meglio! Appena in tempo! Sì, è la mia prima lettera d'amore! Cosa? Sei stato tu? Ti piace? E questa? Oddio! Non va affatto bene! Sì, ho preso questo per te, Zoe! Pensavo ti sarebbe piaciuto! Accidenti! I capelli mi stanno bene? Troppo tardi! Ciao, Zoe! Avvicinati! Mica ai pidocchi! Non so... Fifone! Come faccio a... Come feccio? Ma che bei capelli che hai! Amore! Ehi! Mi hai fatto male! Idiota! Zoe! Non è andata bene! Amore! Vattene via! Rovina sempre tutto! Ehi! Vedi Zoe laggiù? Penso che un giorno ci sposeremo! I suoi selfie sono sempre perfetti! Ehi! Mi puoi fare una foto? Oh, certo! Nei tuoi sogni, Brian! Dammelo! Ora sei in buone mani, Zoe! Ben fatto! Sì, lo so! Questo è il mio momento! David? Una chiamata per Zoe! Ma chi è Matthew? Sarà il fidanzato! È il giorno peggiore della mia vita! Riprenditi il tuo stupido telefono! Eh... Grazie! Pensi che sarebbe divertente se l'amore fosse un emoji? E che mi dici delle altre emozioni? Come rabbia o tristezza? Cosa farebbe la tua emoji? Condividi questo video con gli amici! Anche loro saranno stati innamorati, giusto? E questi li hai visti? Iscriviti al canale e non perdere nulla! Grazie a tutti! Entra più! Grazie a tutti.